Idee nuove, propone un calcio moderno con difesa alta e con tanto possesso di pala. Noi ci mettiamo sempre a disposizione a capire più veloce quello che chiede da noi e ci mettiamo tutta a capire più veloce i movimenti in fase offensiva e in fase difensiva quello che chiede Misti.